Decine di agenti di squadra volante, reparto prevenzione crimine e polizia scientifica hanno effettuato ieri sera un controllo a tappeto in tutta la zona della Pigna a Sanremo. Piazzette e carugi del centro storico sono stati passati al setaccio alla ricerca di spacciatori e sostanze stupefacenti. I controlli hanno puntato in modo particolare ai luoghi solitamente frequentati da malviventi e tossicodipendenti che spesso lasciano anche siringhe e tosi nascoste nei buchi fra le pietre dei muri. Nulla è stato insomma lasciato al caso e sono state perquisite e identificate alcune persone ritenute sospette e controllati dei ciclomotori rinvenuti negli stretti carruggi. Un pattuglione imponente che rappresenta l'ennesimo intervento della polizia nel centro storico Sanremese con un fine oltre che repressivo anche preventivo. L'azione messa in campo da tempo dal questore d'imperia Cesare Capocasa è infatti quella volta a far capire a spacciatori e delinquenti che non possono avere zone tranquille dove svolgere le loro illecite attività perché in qualunque momento del giorno o della notte possono trovarsi davanti a decine di agenti. Ovviamente questo tipo di servizi verranno ulteriormente ripetuti.